eccoci qua ragazzi giri di ruota di oggi iniziamo con la ruota classica per gli iscritti primo giro per rise team oggi abbiamo un po di giri da fare ragazzi niente giro per mickey.169 niente giro per christian niente giro per stacca di quartiere niente giro per ninjax.11 niente giro per leandro db quasi quasi giro per nicola nucci due giri per lui questo è il primo secondo giro ragazzi sempre per nicola niente giro per ultimo 2011 attenzione let's go ultimo 2011 ragazzi vince una card della mille andiamo con il giro per domenico santo santo orsola e ultimo giro ragazzi per baladomanda snarle niente comunque non è vincente l'unico che ha vinto ragazzi è stato ultimo 2011 ragazzi